musica benvenuti ragazzi bentornati in questo episodio di ma che cazzo sto di episodio vabbè ragazzi sono incognito d'altronde è scena comunque allora siamo qui nell'estazione del nuovo contest della volta scorsa e nuovo contest per partecipare vi ricordo di iscrivervi al canale e lasciare like al video e scrivere nei commenti partecipo alla console che avete per avere l'account che avete vinto o per averne uno a pagamento se non avete vinto dovete contattarmi qui su do di marco la mia pagina facebook e se volete seguire se volete seguirmi anche potete seguire sulla pagina ufficiale del canale che è marco di uber io vi consiglio seguita insomma è questa e ciao comunque passiamo al video allora lo scorso video l'ho fatto arrivare a 15 like ma questo deve arrivare a 20 like e comunque lo scriverò anche nel titolo siamo qua che li ha caricati vediamo che il mincitore vi trovo per partecipare cioè vi ricordo anche di partecipare qui sotto dovete essere iscritti al canale e lasciare like perchè così io faccio l'estazione e scrivere il partecipo con il nome della console 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 vabbè comunque vediamo chi è il vincitore the master è scritto b che cazzo vediamo chi è il vincitore paolo mosele partecipo ps3 nel caso paolo mosele non mi contattasse entro 24 ore capito se paolo mosele se non mi contatta entro 24 ore non ha vinto se invece mi contatta ha vinto quindi io ne estraggo un altro ma non hai vinto tu altro cioè contattami per sapere se paolo mi ha contattato se paolo non mi contatta hai vinto tu seconda persona che è su stanco vediamo chi è tudor andoni che anche la volta è scorsa una seconda quindi tudor se paolo non mi contatta entro 24 ore tu avrai l'account avrai vinto tu va bene ragazzi vi ricordo di partecipare qui sotto partecipo ps3 vi ricordo di partecipare qui sotto partecipo il nome della console e lasciare like perchè faccio la stazione venerdì prossimo solo se il contesto avrà 20 like io vi ringrazio per la visione ciao a tutti se ci metterò 20 minuti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti